Quando sei partito? Sì. Siamo a Udine e questi sono i componenti per pietra. Adesso andiamo a casa sua a portaglioli. A Marco? Ciao Marco! Ciao Marco! Sei qui eh? Sei qui? Ti stiamo portando. Pacco Amazon. Guarda quello che stavo dicendo io. In prefagati. Esatto. Ciao Pietro! No! Fa niente, fa niente. Ci ha sghamato. Ci ha sghamato. Ci ha sghamato. Pietro! Hai permesso? Sì. Puoi venire giù un attimo? Vado via, io ti lascio un verso. Vieni Pietro, vieni, 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 vieni. E adesso possiamo venire qui? Sì, sì, sì. Ciao! Vieni, vieni Pietro. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni, 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 vieni. Ti lascio un verso. Vieni Pietro, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Armazza che bestia. Vieni, 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 vieni. 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 Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Allora. Ci sei? Mamma vuoi andare. Mamma. No, 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 no. Ti lascio un verso. No, no. Allora. No, no, no. Non mi piacciono tanti i video, scusami tanto. Allora. Allora, allora, chiudo. No, 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 vabbè. Processore. Sì. È questo quello che volevi giusto? Sì. Sì. Vieni, fu lì. Windows 10. Sì, manda, devo usare la chiave. Sì. 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 La NAND. Sì. Alimentatore. Sì. Ardisk Western Digital. Sì. Sì. E per finire, scheda grafica. Sì. Ah, tu m'è felice, guarda. Ah, hai sorriso, hai visto? Sì. Sono già stato a scuola oggi, non mi sono fatto. Ciao Marco.